Aveva promesso che sarebbe stato soltanto un arrivederci. Il già questore di Frosinone, Filippo Santarelli, è tornato in Ciociaria. Il funzionario, oggi a Modena, è tornato non solo per salutare i vecchi amici e rivedere un territorio a lui molto caro, ma anche per un altro motivo che lo ha visto assoluto protagonista nel Palazzo della Prefettura. Titolo di commentatore che molto probabilmente avremmo dovuto consegnarli già durante la sua permanenza su questa sede, ma per una serie di vicissitudini la consegna è arrivata in ritardo e l'abbiamo fatta in ritardo. Quindi, prima con piacere, con onore e soprattutto con tanto affetto, ho voluto rendergli questo omaggio insieme agli amici qua presenti. Tre anni e mezzo al comando della questura di Frosinone, Santarelli ha lasciato il ricordo, oltre che di uomo dello Stato, attento alla sicurezza e alla prevenzione di un intero territorio, anche di un uomo forte, di un padre che ha saputo rialzarsi davanti al dolore straziante della morte di un figlio. Il prefetto, Emilia Zarrilli, ha voluto riunire i rappresentanti delle forze dell'ordine ed istituzioni per celebrare ancora una volta, questa volta, da commendatore Filippo Santarelli. Ma l'abbiamo fatto con sincero affetto per quando lui ha potuto dare su questo territorio, per la considerazione che il territorio gli ha concesso, conferito, perché veramente è stata una persona che si è medesimato senza andare mai oltre il proprio ruolo, che ha condiviso insieme al prefetto un percorso lungo tre anni e mezzo e che mai, pur nelle discussioni interne e nei momenti lavorativi, mai è venuto fuori qualcosa che non sia una sintonia perfetta tra le istituzioni. Con l'umiltà e la gentilezza che lo contraddistinguono, questo è stato il suo ringraziamento. Io ringrazio il prefetto perché ha seguito un po' l'evolversi di questa procedura che mi ha consentito di acquisire il titolo di commendatore. Per me oggi è stata anche l'occasione di tornare in Ciociaria e di rivedere tanti amici, tante figure istituzionali, ma soprattutto persone con le quali ho collaborato, ho lavorato con intensità e passione e con i quali ho raccolto un sentimento di amicizia e quindi con grande piacere oggi ho rivisto tutti e ho gradito anche le parole che mi sono state rivolte dal sindaco, dal presidente della provincia, dai colleghi delle forze dell'ordine e da tutti i presenti.